Off to the hunt. Dunque, questo brano è in sei ottavi, il che vuol dire che per ciascuna battuta dobbiamo contare fino a sei, oppure, che è più comodo, due volte fino a tre. Infatti anche le note spesso sono raggruppate a gruppi di tre. Nel contare, nella terza e quarta battuta del primo rigo, del secondo e del quarto, dobbiamo tener conto che ci sono accordi che valgono due ottavi e accordi che valgono un ottavo solo. La mano destra è la prima a partire, perché nelle prime due battute di ogni rigo la mano sinistra ha delle pause, quindi non deve fare niente. Faccio il primo rigo contando ad alta voce, in maniera da far capire come deve essere solfeggiato, diciamo, il brano. Dopodiché lo ripeterò e andrò avanti, ma senza contare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nella quarta battuta ci sono sempre gli accordi legati, nel primo, nel secondo e anche nel quarto rigo. Quindi ricomincio da capo, contando stavolta, solo nella mia mente. stavolta, solo nella mia mente.